Arredare open space, imparare a gestire lo spazio, tra le soluzioni abitative più in voga negli ultimi anni c'è di certo quella degli open space e dei loft. Si tratta di grandi spazi aperti che vengono ad essere differenziati gli uni dagli altri semplicemente dall'arredo e non da avere e proprie pareti. Queste sono sicuramente possibilità molto giovani e aggiornate ma non è sempre semplice trovare il giusto arredo per uno spazio così particolare. Innanzitutto occorre dire che, se normalmente la coerenza e l'unitarietà degli stili e dei colori in una casa sono importanti, in questo caso sono a dir poco fondamentali. Il motivo è facilmente intuibile, in un ambiente dove tutto è, a vista, occorre coordinare i vari ambienti in modo che tutti risulti armonico e ben calibrato. Altra indicazione fondamentale è quella della flessibilità, il bello degli open space è che si può decidere ogni giorno come si vuole arredare la propria casa. L'arredamento deve essere in un certo senso trasformista e adattarsi alle più diverse situazioni, basterà orientare in senso diverso i mobili, che per forza di cose dovranno essere leggeri e comodi da spostare, per ottenere un ambiente fresco e rinnovato.